Qui ci siamo ritrovati a questo punto che l'Ater ci sta dicendo sempre che devono venire, aggiustare, aggiustare, ma non vengono mai. Qui il palazzo ci sta crollando addosso. Stiamo con i contatori dell'acqua e contatori della luce insieme. Se succede qualcosa qui saltiamo per l'aria. I pavimenti se ne stanno tutti andando giù, senza che è colpa nostra. Ci hanno lasciato qui in mezzo alla strada. Non sappiamo più cosa fare. Le problematiche più gravi quali sono? Qui ci stanno i cavi della corrente che non sono più a norma, sono cavi di 50 anni fa. Qui hanno trovato che manca una trave due anni fa. Hanno detto che venivano a aggiustare. I soldi sono arrivati ma non vengono a aggiustare. Non sappiamo il perché. Voi con chi vi interfacciate dall'Ater? Con l'avvocato dell'Ater. E lui cosa dice al riguardo? È un'avvocatessa. Dice sempre che è colpa nostra, che qui devono andare a fare i lavori, che non ci sono soldi. Ma è possibile che qui ai 50 anni un palazzo non gli fanno mai niente? Noi tutti quanti in 50 anni qualche cosa cambiamo, qualcosa facciamo. Questo palazzo non è stato fatto mai niente. Ci hanno lasciato così. Qui hanno tagliato gli alberi e hanno lasciato tutti gli aghi di pino così. C'è uno strato di 20 centimetri di aghi di pino. Lì se qualcuno butta una sigaretta, specialmente adesso che si asciuga di più, si accende, come è successo qui a Natale che è già preso poco gli alberi. Pure qui stava facendo ma l'abbiamo spento. Solo adesso che farà più caldo sicuramente una sigaretta, boom! E noi che dobbiamo stare a rischio e pericolo perché l'Ater non vuole fare niente? Non esiste. La minima cosa dicono che dobbiamo pagare noi, quando sono cose che tocca a loro, cavi della corrente, robe varie. Qua siamo terra terra, siamo all'epoca della pietra. Ci hanno lasciato all'abbandono. Dicono che devono venire, devono venire. Ci hanno premesso che venivano dopo per agosto l'anno scorso a fare i lavori. Li avete visti? No. Grazie.